10 semaforo 5 4 3 2 1 vai Giacomo 100 destra 4 20 al cartello sinistra 4 subito sinistra 3 taglia e accenno destro viscido e destra 2 viscida non tagliare e accenno destro taglia subito tornate sinistro mi raccomando qui eh e via sinistra 4 20 accenno sinistro subito tornate destro subito tornate destro pulito eh 20 accenno destro per accenno sinistro taglia in destra 3 più lunga umida 3 più lunga umida subito sinistra 4 lunga lunga 4 lunga lunga 50 spara ora destra 4 subito sinistra 4 subito sinistra 4 e attento alle piante tornate sinistro eccolo eccolo destra 4 20 sinistra 3 Arramo chiude Arramo chiude eccola qui in destra 3 lunga 100 attenzione alla staccata sinistra 4 sinistra 4 in c'è la serie qua eh accenno destro in accenno sinistro è il cartello accenno destro in sinistra 4 subito tornante destro rotolo interno tornante destro rotolo interno ehi ehi accenno destro 100 va bene così Giacomo attento al rail sinistra 3 scivola 3 scivola 20 sul ponte destra 3 destra 3 20 sinistra 4 50 stai sinistro attenzione suddosso destra 4 destra 4 viscida 50 è il cartello attento umida sinistra 3 lunga apre 3 lunga apre 100 sinistra 3 lunga lunga scivola 3 lunga lunga scivola in destra 4 gira apre gomme interne 50 accenno destro in sinistra 3 accenno destro in sinistra 3 per accenno destro in attento ai pini in ritarda destra 2 chiude chiude brutta 2 chiude chiude brutta e accenno sinistro 20 sinistra 4 20 destra 4 in sinistra 4 taglia 20 a rosso destra 3 e alla casa sinistra 3 2 tempi 1 2 50 accenno destro in sinistra 3 in destra 4 e accenno destro taglia in sinistra 2 rotolo interno nella zona dell'olio sinistra 2 rotolo interno e destra 4 accenno sinistro in accenno destro lungo lungo e attento ritarda il cartello sinistra 2 scivola 2 scivola in destra 3 non tagliare gradino interno 20 sinistra 4 20 destra 4 in sinistra 3 rotolo interno subito subito tornante destro pulito eh lo voglio e accenno destro in sinistra 4 in tornante sinistro sinistra 4 in tornante sinistro in accenno destro in accenno sinistro zona umida cartello sinistra 3 in accenno destro suddosso in sinistra 3 e accenno destro subito a rail sinistra 3 subito a rail sinistra 3 subito destra 3 in sinistra 3 più e sinistra 3 subito tornante destro subito tornante destro In accenno sinistro In destra 2 girapre 2 girapre In sinistra 3 In accenno destro chiude Subito sinistra 3 In attento al rail Destra 2 Destra 2 e Tornante sinistro 20 Tornante destro 20 Tornante sinistro 20 non mollare